gentili telespettatori ben ritrovati dopo la pubblicità il consueto appuntamento con gli ospiti del tg di cilento channel quest'oggi con noi gianni pierri e domenico longobardi ben trovati grazie dell'invito come sempre che che ogni anno ci ci regali ma figuratevi per noi è sempre un piacere ospitarvi per parlare di una manifestazione davvero importantissima una manifestazione che ha raggiunto l'ottavo anno di età vedete alle mie spalle la locandina ed è la manifestazione dedicata a massimiliano pagano si svolgerà il giorno 6 di ottobre qui nel cilento precisamente a san marco di castellabate ma lasciamo spazio subito ai nostri amici dove ci elencheranno insomma tutti i dettagli e il programma della manifestazione gianni allora finalmente ci risiamo dopo tanti sforzi perché so che non è facile organizzare una manifestazione e poi come ogni anno è un impegno che dal primo anno che è stata fatta questa manifestazione che noi è come un sigillo per ricordare massimiliano che come ripeto ogni anno una persona squisita e gentilissima e amico di tutti e poi il memorial nella dimostrazione della della sua bontà che aveva verso gli altri e anche per il ricavato che noi prendiamo da questo memorial che ogni anno diamo alla fondazione ieo ccm cosa dirvi vi lascio subito la parola domenico che ci ci dirà la giornata del del 6 ottobre come sarà strutturata in tutti i vari orari naturalmente ogni anno diventa sempre più interessante la manifestazione con l'arricchimento di nuovi cavalieri o no ho sbaglio sì saluto a tutti sì come stavi dicendo eh ogni anno si arricchisce di numeri di binomi cavalieri e amazzoni eh per ricordare massimiliano da due anni facciamo solamente il raduno prima facevamo anche la gara che lui partecipava molte volte alle nostre gare però per dare un poco la possibilità a tutti i cavalieri quindi abbiamo non facciamo più la gara facciamo solamente il raduno eh a cavallo l'anno scorso siamo stati a Santa Maria di Castellabate zona alano quest'anno ritorniamo nel suo paese partiamo dal parcheggio la torretta e ci fermiamo davanti casa sua per ricordare un poco di commemorazione e poi faremo tutto il percorso dei delle colline eh arrivando fino a puntalicose e poi ritornare durante il percorso ci fermeremo a a fare un assaggio dei prodotti tipici della della zona offerti dal caseificio La Bondà del Sele di Eboli e da Pippo Greco azienda agricola di Agropoli e che dire l'anno scorso eravamo in sessanta speriamo in quest'anno un numero maggiore come diceva Gianni i soldi vanno a una fondazione per lo studio di queste malattie bruttissime auguro a tutti i cavalieri anticipatamente una buona passeggiata e un ringraziamento anticipato a tutti quelli che vengono grazie a tutti e beh diciamo che il nostro compito Gianni è anche quello vostro di essere qui e proprio per eh informare i nostri eh telespettatori e tanti appassionati no di ehm eh cavalli equitazione ecco non mi veniva il termine proprio per stimolarli e venire in Cilento a San Marco e partecipare al eh Memorial Massimiliano Pagano inizierà alle ore otto di mattina mi sembra alle ore otto di mattina sì con l'incontro poi il tempo di di far preparare tutti i cavalieri alla alla partenza e poi come anticipava Domenico andremo sotto l'abitazione e poi tutto il percorso e ci bene come funziona l'iscrizione per chi volesse iscriversi deve contattare voi? Chi volesse iscriversi sì eh può contattare tranquillamente noi eh o me o Domenico eh ci sono i numeri se in sovrimprensione sì e quindi tranquillamente può anche solo venire eh a a passare la giornata eh pomeridiana perché una cosa che aggiungo eh il pomeriggio dopo il pranzo con i cavalieri eh ci sarà alle 16.30 la Santa Messa verrà Don Pasquale il parroco di sì Don Pasquale Pergione parroco di San Marco e quindi alle 16.30 ci sarà la Santa Messa in eh in memoria di Massimiliano è una cosa bella e toccante perché eh vedere tutte le persone eh molti a cavallo perché faremo questa eh Santa Messa all'aperto è una cosa molto bella ed emozionante quindi invito tutti a a partecipare quindi chi non è una cosa prettamente per il cavaliere quindi anche la gente del posto o chi voglia partecipare nel pomeriggio ci sarà la Santa Messa quindi mi fa piacere anzi è il mio invito a a a essere presenti e tutto questo Gianni ogni anno io lo ripeto logicamente eh possiamo essere non solamente io e Domenico oppure eh coloro che iniziano questa eh questo Memorial però ehm dietro c'è un sacco di lavoro eh sia da parte degli amici ma dei ehm delle persone che ci sostengono ci sostengono che eh ci danno una mano eh per far realizzare eh non so la maglietta perché poi tutti i cavalieri che ci scriveranno avranno questa maglietta dove davanti ogni anno noi andiamo a logicamente a scrivere il l'evento con una foto di Massimiliano e questi costi vengono ehm sostenuti da da questi sponsor che se mi darei modo elencherò eh dopo ehm sì grazie a loro grazie a queste queste persone che ci danno la mano io come ti dicevo li vorrei ringraziare ma il ringraziamento più grande che ogni anno faccio è per la famiglia perché la famiglia hanno preso a cuore questo Memorial anche per il frutto che come ti dicevo di della giusta causa quindi ringraziamento fondamentale per mamma Rosetta e eh Marilena Rasorella e il fratello ehm Enzo e e poi eh tutti tutti gli altri due le ha citati già domenico prima che sono la bontà del sele e Pippo Greco che ci ci danno questi prodotti tipici della zona eh per per i cavalieri poi abbiamo la Smeica il Lancellotti Ranch di Acropoli ehm Giampiero ehm anche con l'associazione CIA, la pubblica assistenza Givi di Battivaglia, il Cantuccio il ristorante di Castellabate, Vanity Five di eh Giusi Giuliano, eh l'open range di Ogliastro Cilento, la residenza Tamara, l'amica Luana Marsicano, il Dolce Angolo, l'amico Michelangelo De Stefano, eh il bar eh Tiki Tac, l'amico Adolfo Monzo e le tre eh amiche che abbiamo condiviso tante esperienze con Massimiliano che sono Luana Lanza, Fabio Lagitto e Emanuele Abuccino. A concludere eh il grandisimento particolare anche al presidente Tavassi del Grand Hotel Santa Maria. Quindi queste sono veramente le persone che mi eh ogni anno eh alla semplice telefonata si si attivano anche loro per per farsi eh della riuscita migliore del del Memorial. Raccontiamo per un attimo a chi magari non è del settore dell'equitazione ecco che cosa qual è la passione, l'amore che che vi porta appunto a lavorare e stare insieme a questi fantastici animali quali sono i cavalli appunto la preparazione no che ci vuole pure domenico prima di eh cavalcare giusto o sbaglio? Cioè io sono assolutamente estraneo a queste cose quindi racconta un po' anche i nostri. Diciamo che il turismo equestre eh è un po' per tutti ma comunque ci vuole un poco di tecnica ce la vuole accessire un cavallo eh gli amanti di trekking sono amanti della natura eh noi durante l'anno facciamo molti molti trekking eh giriamo un poco tutta l'Italia però questo qua è un punto di riferimento perché purtroppo eh le distanze ci sono eh anche i costi dobbiamo dire quindi eh per trasportare per trasportare cavalli anche le difficoltà ultime difficoltà ultime delle nuove leggi per il trasporto cavalli tende a bloccare un poco i viaggi eh di turismo equestre però eh possiamo dire che è un raduno sentito in tutta Italia che gli amici ci chiamano ogni anno comunque ci chiamano perché quanto lo fate anche solo con il pensiero stanno con noi stanno con noi. E poi anche grazie a Cilento Channel che segue il reportage no possiamo poi condividerlo attraverso i social e fare in modo che gli amici da tutta Italia e da tutto il mondo possano insomma essere presenti per il grande Massimiliano Pagano che ahimè io non ho avuto modo di conoscerlo ma così come eh lo ehm ricordate ogni anno suppongo che davvero è stato un ragazzo speciale. Domenico volevi aggiungere qualcosa prima di chiudere? L'ultima cosa quest'anno abbiamo fatto un percorso eh accessibile a tutti praticamente un percorso semplicissimo anche l'anno scorso però quest'anno è ancora più semplice quindi può venire anche il Cavaliere che non ha proprio una grande grande esperienza quindi abbiamo fatto un bellissimo percorso. Scendiamo fino a giù alla spiaggia e poi risaliamo sopra per le colline fino ad arrivare a Punta Licosa e poi ritornare. E sperando che eh si arrivi a un numero di 70 cavalieri e più giusto Gianni? Dobbiamo bissare sempre di più il numero precedente? Eh sì eh sì questa è anche la la il vostro stimolo, lo scopo? Il vostro stimolo, lo scopo perché logicamente più siamo più riusciamo a raccogliere la il contributo da da donare alla alla fondazione. Possiamo dire il contributo dello scorso anno per essere chiari? L'anno scorso eh togliendo quelle spese minime di gestione delle piccole gestioni siamo riusciti a dare un ricavato di 780 euro alla fondazione. Comunque è un segnale importante. È un segnale importante. Se tutte le associazioni facessero così voglio dire no? Questi istituti avrebbero comunque grande supporto. Sì sì. Domenico? Diciamo che è anche il costo della della giornata stessa che è bassissimo sono 25 euro. Diciamolo giusto. Quindi da questi 25 euro c'è anche il pranzo. È un costo è compreso quindi. È compreso quindi. la quota. È come se pagassero solo il pranzo. Noi ci mettiamo noi ci mettiamo il cuore. Complimenti ragazzi. Se non c'è nient'altro da aggiungere io vi ringrazio per essere stati qui nel. Grazie a te e a tutti quei della redazione che ogni anno ci ci date veramente un aiuto e un contributo per la realizzazione. Grazie e vi invitiamo a seguire il reportage subito dopo il 6 ottobre. Arrivederci e alla prossima.